Ciao amici e benvenuti tutti in questo nuovo video, io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale e oggi, dopo un mese dall'uscita, andiamo a vedere come funziona Sky Glass. Ve l'avevo promesso, l'ho voluto testare, l'ho voluto provare, ho voluto provare le applicazioni, tutte le funzioni e quindi oggi vi spiego un po' come funziona l'interattività e tutto il resto. Quindi iniziamo! Allora eccoci qua, prima cosa il televisore, il televisore che abbiamo qui in questa sede, nello Sky Service di Grotta Mare abbiamo qui un televisore a 65 pollici, perché 65 pollici? Perché abbiamo tre misure diverse la piccola, la media e la grande, la piccola da 43, la media da 55 e la grande da 65 pollici in questo caso, questo televisore è un televisore 65 pollici, tutti sono in 4K QLED, non OLED con sistema quantum dot. Hanno tutti integrato il Dolby surround, cioè che ci sono quattro casse sopra, due laterali più il subwoofer in mezzo e diciamo che è una televisione integrata a 360 gradi. Certo, voi mi direte, non fa l'audio di un in piano surround, non è la visione che può darvi un OLED, ma l'esperienza interattiva che vi può dare questo televisore è molto molto differente, cioè se voi volete una soluzione senza cavi, che non avete la parabola ma avete una connessione molto buona mi raccomando molto buona, perché dopo vi spiegherò il perché ci vuole una connessione molto buona questa è l'alternativa a tutto. I prezzi, vi lascio il link qui sotto, se volete acquistarlo lo potete acquistare in un'unica soluzione o anche incomoderate da 24 a 48 mesi a seconda di quello che volete fare e in più se avete un pacchetto Sky, già un abbonamento Sky, lo potete integrare al vostro abbonamento altrimenti dovete fare anche un abbonamento Sky, compreso nell'acquisto del televisore sì perché? Perché questa interattività e soprattutto questi contenuti ve li dà solo Sky è vero ci sono le altre applicazioni native, ma se prendete un pacchetto base con già integrato Netflix già qui avete lo Sky normale più Netflix quindi noi andiamo a vedere prima cosa, la cosa più bella, adesso lo spengo e vi faccio vedere ciao Sky voilà, si è acceso da solo ha anche un sensore di movimento che quando il televisore, se volete lo potete attivare, che quando passate davanti al televisore il televisore si accende in automatico o se no fate con il comando vocale o addirittura il telecomando, il telecomando come avete visto ci sono 5 colorazioni nero, bianco, blu, rosa e verde e il telecomando è questo qui, è come il normale telecomando dello Sky Q, molto simile ed è molto ergonomico e come tutti gli altri ha il comando vocale quindi noi andiamo a spizzicare qui nel nostro menu e vi faccio vedere un po' come funziona ah, un'altra cosa, non mi ricordavo questo televisore anche viene con la barra nera che qui è la copertura in pratica delle casse audio se voi volete questa barra ha lo stesso colore del televisore questa barrina qui vi costa 49 euro è solo una copertura quindi lo potete lasciare anche nero poi lo potete appendere sia al muro cioè la staffa per il muro con l'attacco pesa o lo potete appoggiare direttamente su un mobile quindi non ci sono problemi vi arriverà a casa vostra direttamente attraverso uno spedizioniere arriverà, ve lo monterà se volete potete fare sia l'installazione che tutto quanto e il gioco è fatto l'attivazione è molto semplice è facile e veloce l'importante è che avete una connessione allora, prima di parlare un po' delle considerazioni io vi faccio vedere come funziona allora qui voi premete il tasto home come avete visto prima fascia avete in pratica delle fasce qui vi fa vedere tutto quello che fa durante la settimana nel palinzesto di Sky potete vedere anche il palinzesto di Rai TV e quelle altre cose e via discorrendo qua avete tutti i vari diciamo la guida tv di Sky serie tv, cinema sport potete scegliere e via discorrendo qui avete la guida tv come vi ho detto potete anche prendere il palinzesto della Rai, Mediaset e via discorrendo e poi qui avete il famoso on demand cioè quello che avevate nel decoder di Sky e questo on demand vi fa scegliere a seconda di quello che vedete di più lui si autoadatta alle vostre esigenze qui abbiamo la playlist che anche questa potete regolarvi voi e fare in maniera tranquilla e poi qui avete tutte le visioni possibili e potete scegliere in modo facile e veloce qui avete tutte le applicazioni prima di tutto potete scegliere le esorcienti potete attaccare prima di tutto il digitale terrestre quindi dietro all'attacco del digitale terrestre e tre prese HDMI perché ci potete mettere un dvd 4k o via discorrendo quello che avete qui sotto avete tutte le applicazioni vedete Raiplay, Mediaset, Netflix, YouTube, Dazone Paramount che adesso intererà a parte del pacchetto Skype Discovery Brass, Disney Channel e via discorrendo qui avete anche dei giochi interattivi quindi per i vostri figli se volete potete fare anche dei giochi interattivi e tutto il resto qui potete interagire anche con le app di Sky cioè Sky X Factor e tutto il resto e questo tasto serve per uscire quindi adesso ciao Sky metti Rai1 metti Rai1 vedete ecco qui siamo arrivati proprio sulla televisione normale questa è una televisione normale adesso gli diciamo ciao Sky metti YouTube vedete puoi interagire anche con tutte le applicazioni metti un video Andrea Lanciotti eccolo qua potete interagire tranquillamente anche con YouTube e tutte le applicazioni e avete una visione facile in un unico telecomando non avete 3-4 telecomandi messi insieme quello dell'audio quello della chiavetta quello del DVD e tutte quelle altre cose avete un unico televisore interattivo a 360 gradi le qualità potrebbero essere migliori spero che miglioreranno sempre di più ricordiamo che questo televisore già in Inghilterra è uscito da un annetto buono e quindi è già in fase di sviluppo in Italia è arrivato più tardi ma perché il mercato italiano è molto molto diverso quindi quello che vi volevo dire è questo qua la visione è fatta bene il 4k si vede benissimo soprattutto le partite e anche la formula 1 e gli altri film adesso andiamo a parlare dei punti critici di questo televisore allora parliamo adesso dei punti critici i punti critici sono prima di tutto la qualità video la qualità video è ottima in 4k QLED tranquillamente per chi non è un appassionato vero e proprio di televisori diciamo che è un televisore che basta e avanza per il mercato medio per chi vuole le alte risoluzioni dovete passare a un nuovo LED e quindi la visione e l'intrattenimento sarà diverso certo voi mi direte la spesa è diversa però voi dovete pensare all'integrazione che c'è in questo televisore che non tutti che nessun televisore ha la cosa migliore di questo televisore è l'integrazione un'altra pecca è la connessione cioè che significa che se voi non avete una connessione ottimale il televisore si bloccherà perché tutti i contenuti soprattutto anche le registrazioni voi potete registrare io adesso non ve lo posso far vedere perché i contenuti che andremo a registrare sono coperti da copyright quindi non posso far vedere il video comunque qui potete registrare ha un server online cioè non ha l'hard disk integrato dentro al televisore e quindi voi potete registrare quello che volete non avete limiti di spazio ma è tutto su internet e quello che vedrete su internet sarà tutto in streaming come vi ho detto dovete avere una connessione ottimale se non avete la connessione ottimale il televisore rischia di fare prima cosa dei lag seconda cosa rischia di bloccarsi ad esempio l'abbiamo provato su una connessione da 40 mega 40 50 mega così e nel frattempo stavamo scaricando qualcosa qualche file molto pesante di qua di là e il televisore è un po' abballato quindi quello che consiglio io se voi avete un'ottima connessione dagli 80 ai 100 mega in su se avete la fibra ottica ancora meglio questa televisione diciamo che vi completa tutto l'intrattenimento del vostro soggiorno perché questo perché avete la qualità e avete tutto in un'unica soluzione avete tutto in un unico telecomando scegliete le applicazioni e penso per una famiglia che vuole vedere sia per i figli che per voi questa è una cosa molto interattiva e poi attraverso degli sviluppi ci saranno anche altre novità poi un'altra cosa potete avere degli sky stream cioè avere dei piccoli mini sky che potete mettere sugli altri televisori pagando qualcosina in più sull'abbonamento e comprando questi sky stream su mettendoli sugli altri televisori in pratica facciamo è un ecosistema come lo sky q platinum che vi ho fatto vedere già nei precedenti video quindi per questo video è tutto era quello che vi volevo dire come facendo un repilogo generale vi voglio dire che è un ottimo televisore pregio e difetti ve li ho detti televisore nella norma non qualità eccelsa non qualità altissima ma la qualità ce l'avete nell'integrazione se volete una cosa pagare in comode rate e avere l'abbonamento di sky tutto integrato questa è la soluzione migliore se volete qualcosa di in più allora si fa un abbonamento normale con sky q 4k full full 4k hdr e un televisore adatto un oled e la qualità video sarà migliore non avete tutta l'integrazione ma ci possiamo arrivare le pecche ve lo ho detto la connessione se non avete una connessione buona ve lo sconsiglio anch'io ma se avete una connessione buona mi raccomando installatelo tranquillamente arrivi a casa montate e via senza alcun problema se volete altre informazioni vi lascio il link qui sotto per accedere al mio sito per contattarmi direttamente e soprattutto se lo volete vi posso fare anche io il contratto e il vostro televisore sarà spedito direttamente a casa vostra con due click di telecomando lo attivate lo connettete all'internet e vi godete la visione quindi per questo video è tutto mi raccomando iscriviti al canale lascia un like e ci vediamo nei prossimi video ciao a tutti da Andrea Lanciotti il vostro tecnico digitale ciao ciao